Fa festa grande il circolo di Serravalle per il ritorno dalla Slovenia del campione del mondo di tiro con l'arco alla sagoma. Marco Cesari è tornato con al collo la medaglia d'oro, prima al mondo in una delle specialità legate all'arco, riconosciuta da Ilconi ma ancora non entrata a far parte delle gare olimpiche. Una grande soddisfazione, stasera Serravalle festeggerà la tua medaglia d'oro che hai conquistato a livello mondiale. Sì, è stata una bella soddisfazione, una medaglia totalmente inaspettata perché era la prima volta che partecipavo a questo tipo di mondiale e è andata molto bene. Ci sono gli italiani ora prossimamente? Domenica prossima, sabato 17 e domenica 18 ci sono gli italiani a Bevagna e poi si punterà ad andare agli europei il prossimo anno in Romania. Una grande soddisfazione per il comune di Serravalle, come premierà quest'atleta? Si premierà sia durante il periodo della fiera, ora che si aprirà dal 15 al 20 di settembre e poi sarà ratificato un consiglio comunale anche perché un campione del mondo merita qualunque categoria sia, anche che gioca a tappini per dire, quello che sia sia, quando un è campione del mondo merita di essere premiato. Per una piccola comunità è veramente un grandissimo traguardo, quindi con molta contentezza siamo venuti qua a celebrare Marco che ha portato alto il nome di Serravalle nel mondo e quindi sono conquiste difficilmente raggiungibili e difficilmente replicabili. È un grosso privilegio avere con il cittadino una medaglia d'oro. Come lo volete festeggiare stasera? Con tutti gli amici, il sindaco, la regione, diversi personaggi importanti e tanti amici. È un po' di tempo che ne scrivo io, quindi per me vuol dire tanto perché in effetti un piccolo paese di Serravalle ha un grande risultato di questo genere, è una cosa di cui bisogna fregiarsi nel modo giusto. Quindi noi ci aspettiamo dal Cesare altri risultati ora, perché questo è solo l'inizio. Io l'ho allenato, l'ho allenato, mi apparecchio e lui fa da sé, nel senso che il tiro con l'arco è uno sport che deve andare da te. Io l'ho allenato, mi apparecchio e lui fa da te.